Ragazzi, mettetevi la sveglia, non vi perdete domani l'inizio della nuova serie su Avengers Non c'è bisogno che io vi dica altro, non mancate all'uno e un quarto domani, vi aspetto tutti Salve a tutti ragazzi e bentornati a Meshusha, siamo tornati con Olly e Benji E stiamo per iniziare il torneo perché la prima partita sarà contro la nostra Italia Quello è Gino Hernandez, un nome tipicamente italiano direi, il portiere più forte del torneo probabilmente Non ha mai subito gol fino adesso, ah, come dite? Ah sì, vi ho scammato di nuovo, sì Ma l'1 e 24 in questo momento, sì sì, no avete ragione, sicuramente con la cam è più figo ragazzi Anch'io voglio tornare a farli, però non vi volevo neanche lasciare senza video Abbiamo iniziato questa bella avventura e mi sta piacendo un sacco Tra l'altro sto giocando la modalità online e ho bisogno di questi giocatori Devo finire questa modalità in modo tale da sbloccare nuovi giocatori da mettere in rosa È figo pure quello, ma adesso concentriamoci Favorita e in difesa c'ha Bassello, chiaramente Francesco, Federico, Matteo, si è persa un attivo il Matteo Torino, grandissimi, e Rusciano Hanno una meta goal subiti eccezionalmente bassa Il merito è soprattutto di Gino Hernandez La sua rete è inviolata da quasi un anno E come fanno noi ragazzi che ci abbiamo Mark Lenders e Zoppo? Però abbiamo sbloccato le sfide storie Cioè dobbiamo fare delle azioni durante la partita Tipo questa, utilizzare la zona V del Giappone durante la zona V catenaccio dell'Italia Iniziamo ragazzi, inizia ufficialmente il torneo È il giorno del nuovo torneo internazionale che decreterà i migliori astri nascenti del calcio No, me lo sono inventato io, non c'è scritto Tutti siamo rimasti scioccati quando gli internazionali in Francia sono stati annullati Sì, questi hanno costruito lo stadio ragazzi per vedere i ragazzini che giocano Signor Cardinal, ci deve nascondere qualcosa? Non ci sono solo tifosi americani ma anche molti appassionati venuti da tutto il mondo Per assistere a queste incoherazioni Eccolo, col loro capitano Diaz Ok, Diaz ragazzi dovrebbe essere ispirato a Maradona credo Il Brasile, i re del calcio Questi sono forti ragazzi Non erano stati invitati all'internazionale in Francia Ma oggi sono qui Eccolo il cyborg del calcio Carlos Bara o Carlos Santana Per dipendere dalla versione Bara era il club degli orfani dove giocavano appunto gli orfani di quella zona E lui è stato addestrato, pensate, a giocare a calcio Lui non prova emozioni, è il cyborg del calcio Mamma mia, non vedo l'ora di avercelo sto giocatore Vedete, il suo talento gli è valso la possibilità di indossare la maglia al numero 10 verde oro Eccola la Francia Immagino ragazzi, a sforna baguetta Eccolo, a guidare il team c'è la rivelazione scelta anche lo scorso anno per la formazione giovanile El Cid Pierre E questo è forte ragazzi, però non devastante Il calcio artistico è un po' un frufru, cioè questi che fanno un po' tutti i tocchettini Eccolo, l'imperatore, il Kaiser Caroline Snyder Madonna ragazzi, ma come facciamo a fargli gol? Questo non ha preso un gol neanche inamichevoli Io mi ricordo, non mi ricordo in che arco narrativo era, però che incontrava sto portiere Olly E' tipo lui che passava la palla Olly più volte per farsi tirare E non dimentichiamoci del fiore all'occhiello Rusciano Eccolo, arrivano i ragazzi del Giappone, tutti fischiati La pippe Però c'abbiamo Benji, ragazzi Ma davvero, Bruce Harper che gioca qua a mezzo L'Olanda Oclui Vot Ragazzi, il Senegal, ora questo già sta a piangere, già lo sa che Gli eroi dell'Africa sono considerati i migliori di tutta la manifestazione in termini di pura potenza fisica Però lui sembra particolarmente triste Eccoli ragazzi, questi li voglio battere perché sono degli infami I metodi di allenamento scientifici Quello è pompato, ragazzi Gli hanno dato gli steroidi come un cavallo Ma abbiamo preso solo sveglia in allenamento, mister Che stai dicendo? L'Italia L'Italia è una difesa di alto livello La chiamano cadenaccio Vero, all'italiano Per niente stereotipati però Capito Benji? Manca un gol questa preso Eh, mister, ce sarai pure io volendo Cioè, se me butti nella mischia io ho un diretto e lo faccio Sì, faranno il coltropiede Dimmi un po', dimmi un po' Non passa mai la palla E anche i suoi compagni la passano raramente a lui Mostreremo che il nostro calcio è il migliore Il cadenacciaro Ok, cheat il cadenacciaro Ma Rusciano non è d'accordo Rusciano, ti dico una cosa Stiamo in un cartone animato giapponese L'amore e l'amicizia Vince su tutto Chi è questo? Nardelli Ma che sta dicendo Rusciano? Ma non ci capisci un cazzo? Zaku è un po' Non ha mai visto un anime, Rusciano Ma in tutto questo io vorrei giocare Eh, fammi giocare Con la maglia blu che gli vale il soprannome di Azzurri Indiviso di quasi totalmente bianca Sì Eccoli ragazzi che ci stanno a spottare E aspettate però, c'è ancora il giocatore quello misterioso degli Stati Uniti Ma stai zitto Benji Già che non ti metti i pantaloncini Ti fa capire che sei uno che ha paura di buttarsi Beh ragazzi, noi abbiamo una bella squadretta Adesso con Benji sarà anche un po' più semplice Difendere Guardate loro con Federico, con Matteo Noi siamo 1710 E ho schierato Giulia Ross a centrocampo Quindi ragazzi, occhio eh E ricordiamoci che abbiamo quella sfida da fare Eeeh, siamo molto più forti Ma dai, ce la facciamo fare ragazzi Inizia finalmente dopo 300 ore di ghiacchiere Bene, ecco Rusciano, perfetto Occhio ragazzi, quello è forte eh Ma io c'ho Misugi in porta Sì in porta, vabbè, centrocampo Giulia Ross, vedete a che serve Oh oh, sta solo raga Eeeh, ci ho provato, ci ho provato C'ho poca energia lì, l'ho spazzata No, me l'ha presa, Francesco Francesco, ma che cazzo fai Nardelli Gito? No, Gito è il travestito Bravo Bruce Harper Bravo, bravo Vedete ragazzi che non gliela passano a Rusciano Bella sta roba C'è bella, beh, insomma Oddio gliela hanno dato a Rusciano, è finita Gliela hanno dato a Rusciano Dai prendigliela a Rusciano Dai Sota Dai segagli Sota Va bene, va bene, è nostra Dai che è nostra Niente Bravo Meno male che c'è sta calla carri ragazzi Scallamogli le mani a sto portiere Vediamo che fa raga Scallamogli le mani No, ecco, gentile Fa niente Eh vabbè C'ha il guanto Non gli ha tolto niente ragazzi Non gli abbiamo tolto niente Bravo Tsubha Non è fuori gioco Non è fuori gioco Bravo Mike Bravo Mike Stiamo dentro la porta Ragazzi me la prenderà sicuramente Cos 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 Ma cosa Non ci ha neanche provato L'ho saltato ragazzi L'ho saltato Dai non c'era Non c'era in porta E' il guanto d'oro E' qua Le i paro tutte E invece Mi pare che Mike Scioscia Mister spettacolo L'uomo che non ti aspetti Ecco Rusciano per occhio Eh Ruscia Ragazzi Eccolo Che cacchio sta facendo Il tiro a martello Ma c'ho Benji in porta Ragazzi Ma come cotto Tutto bello sudato Spalla 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 A Rusciano Riprovaci domani C'è sta riprova Fermi Niente niente ragazzi Con Rusciano Non gliela riusciamo a prendere Forse per quello Che si chiama così Bravo Benji Bravo Benji Questo Ed Warner Rianna parava Manco se calava Eccolo Roberto Sedigno Zubasa Ancora sta a pensare A mia madre Oh Accuse pesanti Con il dito puntato Ma infatti raga Io penso che D'avete sculato Perché avete visto Non gli avevo tolto niente Di vita A Gino Eh sì È stata colpa tua Ma non so se è una cosa De storia Ah È un prezzolato D'avete scusato D'avete scusato Gino Beh un po' mi dispiace Ragazzi eh Che siamo noi l'Italia Però Che dobbiamo fare Vediamo se Rusciano Riuscirà a fare qualcosa Bella Rusciano Mazza Eh sì sì Ce penso io Noi occhio ragazzi Che dobbiamo Dobbiamo Scallare le mani Al portiere Ora tutti supportano Rusciano Borco due ragazzi Guarda Parata degna Di un angelo custode What the fuck Occhio Mui gliela passano Tutti a lui eh Tutti a Rusciano Sì Siamo sicuri Siamo sicuri Eh vabbè Bassarello Bassarello Cunna Ma come fanno Questi già perci questo Gallagher Ma qua questo Mena raga Ma non è giusto Bravo E adesso No vedete ragazzi Non gliela riusciamo mai A togliere a Rusciano Oh quanto è forte Bravo 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 Benji Bravo Benji Sì Oddio Impazzito Mark Lenders Nuovo tiro Della Tigre Ma what the fuck Ma Regà siamo impazziti Stasera È solo la prima partita Del torneo Vai Eh sì Con una mano Faccio con due No Ehi quanto d'oro Glielo coloro Ho gonfiato proprio Capirai lo serbino Che goduria Regà 2-0 così L'ho trovato Se invece dovevo superare me stesso Io Io Eh sì Lenders Mettite in fila Nuovo tiro Della Tigre Ottimo Spero di rubaglierlo anch'io Vabbè Allora Un gol Un po' cazzo di cane Uno E mamma mia Rusciano ragazzi Veramente fortissimo Direi Ok Ok Bravo Io c'ho il tiro normale Della Tigre ragazzi Funzionerà Prima funzionato Tiè via sto mig Portier Eh ma no C'è sto pandorino Sempre davanti Oh l'ho buttato in porta Però dai Oh No Dai Franci Fatte i cazzi tua No Poi ragazzi dobbiamo fargli fare quella giocata Bravo Bravo Ok Rusciano Ecco fatto E ragazzi questa volta penso che entri eh Eh beh C'è stava Mannaggia il cuore Difendiamo sto risultato Dai No Rusciano No Rusciano No Rusciano Bravo Bravo Eh mia mia È finita È finita Su Su portamosela a casa Allora ragazzi Ho giocato Tutto il secondo tempo Cercando di fare quella cosa della V Ma Col Tiro di Rusciano Non so perché Benji me l'ha succhiato via tutto Vedete Loro tre Io zero Mannaggia Eh 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 Ragazzi Grado A con Snyder Quindi spero che ora mi dia il super tiro Muro inespugnabile Beh non ci serve a niente Comandante Leader Nato Tiro di fuoco Sì me lo metto subito Tecnico È un po' spiace eh Spiace per i ragazzi Non mi ricordo una parata Di Hernandez Perché ho fatto due tiri Due gol Eh effettivamente ragazzi Se prima il tiro di fuoco Rivaleggiava con Quello di Della tigre Adesso Col nuovo tiro della tigre Eh solo due erano buoni Ragazzi Non mi ricordo di Certo ragazzi, a Roberto Ungo A Roberto Sedigna C'è l'occhiali E chi è? Mi chiamo Robert Giusto, inventate un nuovo tiro, Zubba Comunque ragazzi, tornassi indietro credo che creerei il mio personaggio come un centrocampista Perché lì combatti di più lotta a centrocampo, rubi palla Olanda Senegal Benissimo Vediamo un po' che succede, che fa sto Senegal Che c'ha una maglietta bellissima da un'altra Vai, Senghor, scaglia il potentissimo tiro, oltre le linee offensive Diallo C'è sta manè, questa è manè Con la capocciona 1-0, così Il Senegal Finisce la partita così 21-1 Esatto Il suo miglior risultato di sempre Eh? Qualcuno mi sa che l'hanno scoppiato ragazzi Non ci hanno detto quanto è finita Però Francia contro Inghilterra Beh, vince la Francia, sicuro Sì sì sì, Misaki Tom Becker era stato in Francia Perché il padre era un artista, no? E lui conosce Pierre Eh? Così Così vado Dall'Italia Coverciano E dico Raga, a me fate giocare Sì Eh beh Però Elcido Pierre C'è il suo miglior Sì sì, abbiamo potuto l'argomento anche Ma hai Musa chi? Ci sono più attenzionati Sì, nono Nelore Il suo migliorno Il suo migliorno Il suo migliorno Il suo migliorno Sì Questa la pière Questa la pière Quelque di più Inghilterra Non ne chante Alla Luis Napoleon Oui oui, tiriamoci sta baguette Forza, saliamo e facciamo gol Eccolo Napoleon Che è un babbeo, veramente è un babbeo Però ce sa fare col pallone Tutti che indicano ragazzi, guardali, guardali Tutti che ci hanno ordito lungo È proprio lui, in gol o cante Ah no, Dean Questo ragazzo non me lo ricordo Può essere pure che è un personaggio creato per il gioco Eh, manco io, non so anche a chi Ah ok, allora è stato appena creato Sì, per il gioco Occhio a questi i3 e magna baguette Che sono quelli che dobbiamo tenere d'occhio Però c'hanno una bella maglietta, devo dire Argentina-Arabbia Saudita Oh mamma mia È finita proprio Meno male che... Io ho un sogno in tutto questo ragazzi, giocare E faccio vedere Vai, chi è? Diaz Sì, ma non ci fanno vedere il risultato Eccolo, Diaz Il famoso porco, regà Sicuro Vabbè, non è che c'era bisogno che te lo diceva la nazionale, eh Eccolo va M'ha becchiato, Roberto Sedigno Grande amico della mamma di Olli Eh sì, raga, ve l'avevo raccontato, no? Che lui gli ha detto, ti porti in Brasile Invece si è dato Sì, vabbè Secondo me aveva messo in cinta la madre Se non è nato Ragazzi, questa serie la sto fa un po' più cazzona Perché, te lo ripeto Sono le due in quarta testa Cioè, capite, è passata un'ora Ho giocato una caccia Cioè, capite, è passata un'ora, ho giocato una caccia Cioè, capite, è passata un'ora Cioè, capite, è passata un'ora Cioè, capite Cioè, capite Cioè, capite Cioè, capite Cioè, capite Ecco fatto Ha parlato Questo ragazzi è Gullit Speriamo da no Ci stanno aspettando ragazzi, eh Io credo che loro siano forti, forti in attacco e a centrocampo Ma in difesa un po' più scarsetti E il portiere credo che sia niente da che Però hanno rotto le scatole al Senegal Ma perché deve giocare sano ragazzi? Ma perché deve giocare sano? Che è una pippa al suco, non capisco Però ci abbiamo da far Fare un gol a sano Cogito in campo Un'ora e mezza Finalmente Si inizia a giocare ragazzi Si inizia Occhio a loro eh ragazzi C'è la formazione difensiva Tutti dietro eh Dirk E vabbè Niente Aspetta ragazzi Aspetta Aspetta Nuovo tiro della tigre Eccolo Eccolo Ho aspettato ragazzi Ho aspettato Mi sono scucciati via tutti Si portiere Piastomig Va Va Piastomig Ecco il nuovo tiro della tigre Però Ci vuole un sacco a caricarlo ragazzi Sono due tiri Speciali insieme Guardalo Però quanto cacchio è bello Ah Ci sottovaluti così Vediamo vediamo Ancora ne hai fatto un tiro Stupido Capirai No 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 Che Ragazzi stava tirando L'aveva tirato praticamente L'aveva tirato Vai spettacolo Vai tu Ah ragazzi Gli ho messo il tiro Di Snyder Eh Vabbè Niente Bravo Bravo Mike Bravo No Gli ho tirato sto straccio Fragico Bravo Aspetta che l'ho visto Oh 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 Eh me l'ha preso Oddio Ma che sta facendo Coso Oddio Oh raga Tiro della banana Sano Col tiro banana Eh si vabbè Oh ma guarda Sano Raga Guarda Sano Guarda Sano se li sta a ciucciare via tutti Dai fai sto tiro della banana su Eh no Non si riesco a segnare con Sano No Dove far gol ragazzi Dove far gol con lui Forse ragazzi Gli devo segnare con Sano Al secondo tempo Mentre c'ho un'altra Missione qui con Giulian Rosso Eh beh è ora eh Sta a perdere Al secondo tempo Quando vuoi iniziare Forse ho dovuto sfruttare il primo tempo Per fare più gol Oh Sano Se non segna adesso Sei proprio una pippa Fattelo di Eh niente Sei una pippa Ragazzi Non c'ha più vita Non c'ha più vita Tira banana Per favore Signor sano Sìììì Finalmente Oh Eh mi dispiace Dirk Anzi Dirk Hai visto Dirk supplemental non significa Per forza Per forza Esci subito Ho fatto 79 tiri Ma però ragazzi La sfida con Julian Ross Dobbiamo essere in parità nel secondo tempo Questi non stanno fa niente Fuori, fuori, fuori sano Bravo Mike Ah facciamogli il tiro di fuoco Vediamolo un po' Bello Snyder T'ha unculato il tiro Eh però Non è mai efficace Beh gli ho tolto metà vita Forza, forza Ce l'andiamo così Fuori gioco Abbiamo fatto call Vai Mike, vai Mike E' questa che entra, questa che entra No Sto portiere Ragazzi non posso farla la sfida Gli avrebbe dato tipo un super tiro a A Julian Ross ma Bravissimo Julian Ross Gioca un tempo solo ragazzi Qua c'è, facile 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 Eh beh Ma ha creato due sveglie Va segnato il tiro a banana Ma quindi il Senegal è nel nostro stesso girone Penso che vincano Però Guardalo Rusciano Che bombe che tira 1-0 Così Vediamo come finisce La Winter Senegal Vai C'è sì Eh, spiace Che sarebbe pure ora, perché Olli, ragazzi, male male ultimamente Mi dà la palla nera Fockeball? Da un pc! C'è il brazo del brazo O brazile? C'è il brazo del brazo Con il brazo del gioco Mi partiamo nel brazo del calcio Ano il gioco del tedesco L'obrimento di Carlos Verra Luciano Alberto Il cyborg del calcio Fatti fatta una risata Ragazzi Partita contro il Senegal Non contro un cacchio quindi puntiamo alla vittoria Bene benissimo Ah ci hanno detto ragazzi di giocare Con la trappola del fuorigioco Perché questi sono velocissimi Misugi io ho messo Julian Ross a centrocampo Bene Bello Vorrei puntare ragazzi A far giocare bene mister spettacolo Quindi dai Sì Mi vado dritto per dritto Tiè Subito Portiere Oh no Oh no Che 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 Dai ce l'hai ce l'hai ce l'hai ce l'hai Oh non l'ha bagliato Sì non l'ha bagliato Non l'ha boccato Lo vuoi di forte Lo vuoi di forte che sto forte Eh vabbè No Cosa Cosa Ma Benji Non t'hanno fatto manco un tiro Senghor Ci ha segnato ragazzi Non ci credo Ma perdiamo contro il Senegal Non ci posso credere Ma cosa Impietrito Vai 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 Fa sto strappo Bravo Yuka Non c'è bisogno ragazzi Che faccio il super tiro Il suo portiere Non ci ha più faiato un corpo Dai Eh no 1 a 1 Si gonfia la rete E si gonfia la rete Ok ragazzi 1 a 1 Molto più difficile Quanto pensassi Bravo Yuka Vai Va prende sto MIG Sto dentro la porta Manco la vede Stavalla Si Si Ah vabbè E del 2 a 1 Con calma Con calma e per piacere Si No cacchio Questo è forte 3 gol Ah questa credo Che sia La sfida No 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 Guarda la presa Così è impazzito Callaghan E' impazzito ragazzi Non so che gli è successo Ultimo dell'aquila Super Mega Oh ragazzi Magari c'è da un altro gol Soda Soda No no Questo non è un tiro in passaggio Non è un tiro in rasoio E' vero Ma che che Mi taglia i capelli Ragazzi stiamo assistendo All'imponderabile E' il super tiro Sì è il super tiro di Callaghan Gliel'abbiamo sbloccato Goto Bello Sì Sì Bello Questo Potevamo sbloccarne anche uno per Julian Ross La partita prima Però dovevamo essere in pareggio Dovevamo fare un po' di roba Ma L'Olanda non ha fatto niente Oddio Eagle shot di nuovo Bello vediamo 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 È distantissima No Portiere Una parata Senza occhi Vai Michelino Vai Michelino No non entra Gli ho scallato le mani Però dai E si vince ragazzi Si vince facile Si vince facile Dobbiamo farne una in più però No dobbiamo farne una in più Ah Italia e Olanda Vediamo chi passa Ah così Gli attaccanti olandesi Colpirono la difesa italiana Ok Non riuscirono a segnare Ok Che succede Calcio di rigore Ci fa Rusciano No Punti Ma dove va Punti Ma Punti è una pippa Poi si alza la palla Per battere il rigore Ma dove Ma dove Dove Però Gol 1-0 Perché siamo una squadra Ma che è sto tiro Viala 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 Ecco sempre con una mano Ci va Ma sto portiere Non vale niente È 1-1 E così Ecco Segna Cliver Vabbè abbiamo dato tutto ragazzi Abbiamo dato tutto E mamma quanto sei Ma proprio così A fosse male Ma che cacchio Ma che cacchio Ma che cacchio La mano testa dorata Sì Non l'ha mai usata Qua tecnica Ma tanto Uscite lo stesso G Ma magari io lo favo Magari io lo favo Eh scimatta Sì magari Ah ok Ho capito la sottodrama Che loro pensavano solo Ad attaccare Adesso Questo capisce Che deve anche difendere Guarda Faglia la busta Faglia la busta Nooo Nooo Gliela poteva passare Invece no L'ha passata Ha capito Ha capito Che deve giocare Per la squadra Dai a Nardè Dai a Nardè Con qui sti capelli Non puoi sbagliare Oddio a Nardelli Colpo di testa Pericolosissimo Sì Alle tre E ventisei di notte Sì 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 Godo Come un riccio Vai Sti magnatulipani A casa Il nostro Come la meme Il nostro gol Calcio dell'Italia Ci siamo salvati Godo 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 Dai Luciano Con Che vuol dire Così T'ho contento Ma questi se li incula Vabbè che poi storicamente L'Olanda non è mai stata Una squadra vincente Cioè è sempre arrivata lì E poi perdeva Beh meno male Grazie mister C'è molta fiducia Bene ragazzi Inizia la fase A Eliminazione diretta La prossima partita È contro L'Argentina Di Diaz Che non è stato schierato Contro il Brasile Proprio per Giocare contro di noi Ragazzi Sono le 3.37 Avevamo iniziato All'una in quarto Cioè 2 ore per farsi 3 partite Clamoroso Clamoroso Appuntamento ai prossimi video Un saluto a tutti Alla prossima Ciao ragazzi Ciao